Voghera, ci piace o non ci piace? Strada provinciale 10 chiusa al traffico per circa due ore verso Casteggio Il 31 novembre, dalle 8 del mattino alle 20 di sera Porta in alto È una cosa vergognosa, è una cosa schifosa Un cappottino, che è un cappottino sciancrato Emanuele! Grande! Andiamo dai per favore Andiamo dai selfie Adriano Pappalardo, benvenuto Ciao Ok, la jabbe, jabbe Sei pronta? Andiamo! Ok, dai, dai, andiamo Benvenuti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti